Gentili telespettatori, buona giornata. Avanzano Lega e Forza Italia, frena Fratelli d'Italia, ma il centrodestra è ampiamente al di sopra del 50%. Un sondaggio che fa tremare PD e 5 Stelle. L'effetto Conte realmente sembra quasi inesistente se non inesistente. Un sondaggio commissionato dalla Lega a Enzo Risso sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Viene confermata la crescita della Lega che arriva al 24,8% e un'avanzata anche di Forza Italia che cresce dello 0,6% ed arriva all'8,9%. La coalizione arriva al 50,1%, se poi sommiamo anche l'1,3% di Cambiamo, arriviamo al 51,4%. Non va bene a sinistra. Il PD perde un altro decimale e dal 18,2% scende al 18,1%. I 5 Stelle con Conte non sono andati da nessuna parte. Questo sondaggio commissionato dalla Lega vede appunto i pentastellati al 14,9%. C'è anche una discesa abbastanza consistente di Fratelli d'Italia, che però era già cresciuta molto nelle ultime settimane ed era arrivata al 18%, sembrerebbe arretrare al 16,4%. Aumenta di un punto anche azione di calenda che è al 3,3% e Italia Viva dal 2 va al 2,9%. Comunque questi sondaggi intanto non sono quei soliti sondaggi fatti da Ipsos XE, Tecne, Euromedia Research. Ecco, questi sono sondaggi indipendenti, commissionati dai partiti perché vogliono vedere realmente qual è la loro vera forza elettorale. Voi sapete che il sondaggio è un'arma di manipolazione di massa. Voi sapete che per l'effetto carrozzone, o io ho chiamato sempre l'effetto pecorone, se il sondaggio dice una cosa, molti italiani tendono a seguire quello che dice il sondaggio. Ad esempio, se vi dicono che quel partito è in forte discesa, molti sono tentati ad abbandonarlo. Se dicono che quel partito è in forte salita, molti sono tentati a salire sul carro del vincitore o di quello che potrebbe andare a vincere. È così, è l'effetto pecorone. Gli italiani, come in tutto il mondo, quando gli dite che quella squadra di calcio vince, diventa la squadra più tifata in assoluto. Vi faccio un esempio mentre carico la telecamera. Vi faccio un esempio. Voi sapete che la squadra di calcio più tifata è la Juventus, giusto? Io quando ero a scuola, tu cosa tifi? Juve, Juve, tutti Juventus. Poi ho cominciato a prendere piede anche il Milan, perché il Milan vinceva e allora cominciavano esserci tanti tifosi del Milan. Erano tutti juventini, perché è facile stare sul carro del vincitore. La Juventus vinceva sempre, allora erano tutti juventini. Perché è più facile, più comodo, sei dalla parte di quelli che vincono sempre. Quindi sei anche tu più contento, perché ogni domenica vince, quindi la tua squadra del cuore vince sempre. Ecco, questo è un po' l'effetto che sanno perfettamente i sondaggisti. Dire una cosa su un partito influenza molte persone. E così si vedono in tanti sondaggi. Ci sono sondaggisti di centrosinistra evidenti che in ogni stessa cosa con sondaggisti evidenti di centrodestra. Vedete che in quello di centrosinistra abbassano le percentuali di tutti quelli di centrodestra e alzano quelli di centrosinistra. E lo fanno anche nel centrodestra. Alzano le percentuali del centrodestra e abbassano quelli di centrosinistra. Perché? Perché chi commissiona il sondaggio è il cliente. Il cliente ha sempre ragione. Il cliente bisogna farlo contento, sennò la prossima volta fa il sondaggio con chi gli dà magari più soddisfazione. Ovviamente è così. I vari sondaggi che vediamo ogni giorno e danno Forza Italia all'11% e gli altri lo danno al 5%. Ci sono quelli che danno la Lega al 22 e il PD al 21 e quelli che danno poi la Lega al 26 e il PD al 14. Ecco, insomma, diciamo che anche nelle case, gli istituti demoscopici la correttezza lascia più che altro il posto al fatturare. Se quel partito mi chiede sempre i sondaggi, io devo farlo un po' contento. Tanto alla fine sono sondaggi, li modifichiamo un po', e chi si è visto si è visto. Così loro sono contenti, ci continuano a commissionare il sondaggio, ci continuano a pagare e per noi è importante guadagnare. E così ogni tanto i partiti commissionano il sondaggio a delle società, chiamiamole così, indipendenti. indipendenti, come quello che ha fatto adesso Salvini per la Lega, chiedendo per favore ditemi realmente qual è la fotografia della realtà. E così la fotografia della realtà vede una Lega non al 23 e 22, come dicono alcuni sondaggi, ma quasi al 25%. E realmente i 5 stelle che davano al 21, no? Qualche sondaggio era arrivato a modificarli dando i 5 stelle al 21 perché c'era Conte. In realtà con questo sondaggio vediamo che i 5 stelle sono al 14,9. Quindi l'effetto Conte, tutti quei, tutti quei, quegli scappati dal PD che andavano in movimento ci sono, ma sono una piccola parte. Lì si pensava che la metà del PD andasse con i 5 stelle solo perché c'era Conte, no? In realtà tutto questo innamoramento per Conte lascia un po' il tempo che trova. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook dove trovate poi tutti i video che sono presenti su TeleItalia e TeleItalia Seconda Rete in differita di qualche ora, li trovate tutti lì. Bene, mentre nella community trovate anche tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare e nella, diciamo che tra una ventina di minuti potete trovare un altro video disponibile su questo canale. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.